Allora, siamo qui con un altro tifoso pulitissimo della campagna Tifosi Puliti che stiamo portando avanti per trovare i tifosi che seguono la squadra in maniera corretta. Allora, oggi abbiamo avuto una partita tranquilla, era prevedibile una vittoria, però insomma, visto il risultato finale, un 5-1 piuttosto schiacciante, sentiamo il commento del nostro amico Massimo. Una partita, vuol dire, anche bruttina, perché loro praticamente sono nulla. Stavano l'inforzamento, c'era la partita nostra. Infatti, dopo 3-0, dovevamo anche 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 3-0. Volevo fare una puntualizzazione su una cosa che non mi è piaciuta. Montolivo. Montolivo è stato, secondo me, il lago della Piancia. Cioè, aveva un'opportunità enorme oggi. La partita mancava a Bellerani. Invece, si è visto come ancora i ragazzi dovrebbero escire. E io spero che comunque, piano piano, prenderà in mano quella partita. E praticamente Montolivo è il futuro di questa squadra e, logicamente, mancando Liberani, oggi le sue, diciamo, responsabilità erano anche accresciute. E ci aspettiamo forse un qualcosina in più. Certo, è difficile mettersi a fare tante critiche dopo un 5-1, però, in effetti, mi sento di essere d'accordo con le considerazioni. E perché, insomma, vuol dire, dopo un 5-1 una partita usata in questa maniera, mi perde un pochino bruttina, perché, ovvero, il risultato è quello che conta, poi, alla fine. Però, insomma, ci facciamo anche vedere il pari, un po' il pallone, insomma. Ecco, Montolivo, secondo me, ha perso l'opportunità oggi. Eh, speriamo che nelle prossime due occasioni abbiamo adesso due partite molto difficili, a Palermo e poi in Casano, a Roma. Montolivo faccia questa salta di qualità che tutti, un po', nell'ambiente, si aspettano. E' giovane, e' giovane. Speriamo. Benissimo. Allora, auguri e tante cose, Massimo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.